Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato veloce al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più un'ora di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono pistacchi sgusciati non salati, crema di pistacchi, giuttero, latte intero congelato a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pistacchi e tritare per 30 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Ripetere l'operazione per altre due volte, sempre per 30 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere la crema di pistacchi i cubetti di latte ed azioniamo il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8 spatolando trasferiamolo in congelatore per almeno un'ora. gelato veloce al pistacchio si conserva in congelatore per 7-10 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie e alla prossima ricetta